la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa di questo lunedì 6 aprile andiamo a vedere la prima pagina del mattino il titolo di apertura in prese arriva il salvagente oggi il decreto per la liquidità alle aziende prestiti garantiti al 100% fino a 800 mila euro calano ancora dei cessi positivi e ricoverati l'istituto di sanità dice si può parlare di fase 2 e proprio verso la fase 2 lavoro, sport e trasporti come convivere con il virus la Toscana dopo la Lombardia obbligo di mascherine ma non ci sono per tutti andiamo su centro pagina l'inquinamento sparito e il mare limpido di Napoli è come negli anni 50 sempre su centro pagina la mappa dei contagi campania dopo il blocco colpiti più giovani la quota degli under 30 più del doppio che in Lombardia Napoli oggi parte il potenziamento delle cure a domicilio nel casertano primo detenuto infetto scoppia la rivolta nelle celle di taglio basso San Pietro vuota il monito del Papa i veri eroi non sono fama e successo poi il discorso di Queen Elizabeth come in guerra siate forti questa era la prima pagina andiamo a vedere quali sono le misure anticrisi del governo a tutte le partite IVA liquidità immediata fino a 25 mila euro oggi il decreto per i prestiti alle imprese finanziamenti andranno restituiti in sei anni nuova sospensione delle scadenze fiscali e Conte dice non so quando sarà quando finirà il lockdown il decreto arriverà oggi ma l'iniezione di liquidità per le imprese promessa dal governo potrebbe non essere nonostante le promesse immediata o almeno non per tutte le aziende il provvedimento stanzierà 10 miliardi di euro il fondo centrale di garanzia gestito dal medio credito centrale vedrà le proprie risorse lievitare durante l'anno finanziato l'anno fino a 7 miliardi di euro per garantire alle imprese fino a 499 dipendenti e questa è una novità garanzie in grado di mobilitare 100 miliardi di euro di crediti ieri è stato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli a spiegare come queste garanzie opereranno promettendo che saranno attive entro qualche giorno e vediamo i punti chiave del decreto poteri speciali anche contro le scalate europee entra lo Stato tramite la cassa depositi e prestiti in caso di rischio le scadenze fiscali rinviate per due mesi prima casa termini sospesi per il bonus i comuni potranno far slittare l'Imu e prestiti fino al 25% del fatturato questo è in linea generale i punti del decreto ma andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda la scuola invece lezioni web obbligatorie oggi il decreto scuola maxiorale per la maturità se gli istituti non dovessero riaprire solo un colloquio online all'esame di Stato tutti promossi nelle classi intermedie salta la prova finale per la terza media la didattica a distanza diventa obbligatoria la maturità si farà con un maxi colloquio gli esami di terza media saltano la promozione sarà assicurata a tutti pur se con voti insufficienti in pagella con questa inaspettata riforma scolastica imposta dall'emergenza da covid-19 si chiude l'anno scolastico ma intanto per la riapertura a settembre i problemi iniziano a farsi sentire a cominciare dai supplenti che dovranno sedere in cattedra e non è escluso che anche a settembre spiega la ministra Zolina all'istruzione il nuovo anno scolastico cominci da casa qualora dovessero persistere rischi da coronavirus e vediamo in il virus in campagna com'è la situazione positivi a casa un team covid gestirà la malattia a distanza l'organizzazione dell'assistenza domiciliare in provincia di Caserta sarà mutuata da nelle altre asle un infopoint controlla gli asintomatici per 14 giorni anche con psicologo e nutrizionista fino alla guarigione sono circa 2000 in campagna i covid positivi di isolamento domiciliare sintomatici o meno cifra che lievita di circa tre volte se si contano anche i sospetti in attesa di tampone o in quarantena una platea di pazienti che tende a crescere di giorno in giorno la campania dove alle zone rosse già esistenti se ne aggiunta un'altra il comune di Lauro in provincia di Avellino sta tenendo alta la bandiera assistenziale ospedaliera ma lo sbandamento iniziale sul fronte delle cure domiciliare è stato evidente innumerevoli le segnalazioni sulle mancate notifiche del risultato dei tamponi abbandono assistenziale ricorso al 118 nelle sole fasi di aggravamento talvolta senza diagnosi certe con esiti anche drammatici iniziare la cura a casa individuare segni e sintomi valutare in ogni fase la migliore strategia terapeutica e compito della medicina del territorio e dei medici di famiglia il modello campano delle cure domiciliari territoriale è stato messo a punto e muove i primi passi in molte asla anche se attende linee guida comuni dall'unità di crisi e rimaniamo sempre in campania a tanti giovani contagiati dopo il blocco la quota degli under 30 è più che doppia di quella in Lombardia 10,7% contro 4 oggi la protezione civile regionale valuta con le asl l'anomalia dei casi diagnosticati ma se c'è il blocco chi è che continua a contagiarsi la domanda cercherà di rispondere la protezione civile della campania oggi in un incontro tra il responsabile regionale Italo Giulivo e i direttori delle asl ci sono valori infatti sui quali va fatta chiarezza si stanno infettando i sanitari i test sono in corso ma i primi risponsi sono incoraggianti si stanno imbettando gli anziani nelle residenze è vero ci sono ben 5 situazioni critiche come quella di Sala Consilina all'istituto Juventus in cui sono stati contagiati in 46 poi ci sono anche altre situazioni a Riano Irpino Sant'Anastasia fuori grotta ma siamo nell'ordine di qualche centinaio di casi invece da quando sono scattati i benefici del blocco nazionale ovvero nelle due settimane che vanno da lunedì 23 marzo a ieri in Campania sono stati oltre 2000 nuovi casi diagnosticati sono numeri modesti nel quadro nazionale va detto con chiarezza e però se fino al 22 marzo il peso della Campania sul totale Italia era intorno all'1,5% dopo il blocco cioè negli ultimi 14 giorni l'indicatore è raddoppiato il risultato è quello che si vede nella tabella che abbiamo qui sulla pagina i contagi in Italia nelle ultime due settimane sono stati il 18% in più di quelli contagiati fino al 22 marzo ma in Campania tale incremento percentuale schizza al 116% con valori elevati in tutte le province in particolare Benevento risultata quasi immune prima del blocco e poi c'è l'anomalia degli under 30 che risultano abbiamo visto dal titolo è una quota doppia rispetto a quella in Lombardia lasciamo il mattino diamo un'occhiata alla prima pagina del quotidiano la città l'apertura della città nave dall'Africa nave dall'Africa blindato il porto da Tunisi a Salerno 105 lavoratori italiani cordone sanitario e controlli sempre sul centro pagina l'intervista appunti SOS contagi in famiglia via i positivi un'altra intervista a Toro battaglia vinta grazie al Cotugno di lato virus e migranti l'imam chiede salviamoli l'aumento dei decessi diano e cave lutto altre quattro vittime battipaglia Salerno si salva dal tumore muore per il covid l'economia CIG sostegno beffa l'anticipo è prestito sempre di lato Cetara solarium sul mare bocciato il progetto della cooperativa Pagani scusate Pagani spaccio in centro nel nome del clan in 15 a processo ebboli le case disabitate nel mirino dell'adre raffica di furti Salerno musei e siti storici finiscono in rete per lo sviluppo battipaglia le palme arrivano sulla storica multipla dei rossomando di taglio basso la salernitana taglio stipendi parliamo nel capitano de granata di tacchio noi siamo disponibili lasciamo la città andiamo su cronache l'apertura troppi medici e infermieri si sono dati alla macchia molti di noi sono eroi ma c'è chi ha preferito abbandonare il campo la denuncia del dottor Paucciulo da scafati e intanto Samania a Salerno arriva una nave con oltre 100 italiani bloccati in Africa sempre a Salerno buoni spese i supermercati chiedono chi paga morti e contagi i numeri aumentano nel salernitano andiamo a sapere i risultati in ritardo il sindaco va in procura sotto la testata in costiera turismo in ginocchio Mendozzi non c'è chiarezza alcuni albergatori della Divina valutano la non riapertura Carlo Fiamma il pienno lo danni a lungo termine andiamo di lato nocera inferiore chirurgo positivo all'Umberto I reparto chiuso pazienti adeboli poi l'intervista Giovanni D'Auri calciatori stressati per l'emergenza la storia di Angelo Graziano pane fresco per i volontari e bisognosi poi Pianeta Basket Trenzullo ci sarà tempo per riflettere e infine Castel San Giorgio il Pucca e i terreni della famiglia del consigliere con la prima pagina di crona che termina la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità diamo la linea alla regia rieccoci tornati in studio riprendiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno il titolo di apertura il virus fa strage di anziani sette morti in un giorno terza vittima a Salerno dolore sciocca a Cava e nel ballo di Diano allarme al ruggi per i percorsi dedicati ai bimbi sospetti covid da Procida si parte tra i dubbi la situazione nocera contagio a catene in ospedale in Cilento un sindaco denuncia il medico testimonianza Roberta infermiera neoassunta in prima linea ma non me ne pento di lato troviamo due storie ristoranti in crisi nera proviamo i dining bond e poi un'altra storia gente di viaggio tra rimborsi e cancellazioni noi abbandonati centro pagina la folle corsa del 17enne innamorato prende l'auto dei parenti per raggiungerla non si ferma all'alt e si schianta l'ordinanza nocera inferiore troppa gente in strada mascherine obbligatorie di lato l'emergenza una task force per i bonus spesa sfondata quota 2000 richieste l'economia se continua così giusto trasferire a famiglie e imprese i soldi delle luci di taglio basso il caso a Olevano Don Marco processione sul mezzo della protezione civile l'iniziativa annunciata sui social benedizioni e preghiere per i fedeli al balcone questa era la prima pagina del mattino di Salerno andiamo a vedere qual è la situazione dei contagi nel Vallo di Diano anziani un'altra strage palme con il collutto nel Vallo di Diano due vittime accertate una sospetta a Madrid spira un emigrante di Caggiano i decessi al curto sono riconducibili al focolaio originario dei riti spirituali una domenica delle palme tragica per il Vallo di Diano due decessi nel reparto Covid di Polla la morte sospetta in casa e un emigrante che ha perso la vita a causa del coronavirus in Spagna sale a 15 il numero di morti per il contagio in attesa dell'esito del tampone effettuato sulla salma dell'ottantenne di Polla all'alba di ieri mattina Alessandro Mollico ottantenne originario del napoletano ha perso la vita nel reparto Covid l'uomo si era trasferito a Polla da qualche anno e si era ben inserito nella vita sociale del paese il primo deceduto per il contagio nel piccolo comune baldianese era stato ricoverato nel reparto di fisiopatologia e probabilmente lì ha contratto il virus infatti bisogna ricordare che altri tre pazienti dello stesso reparto hanno perso la vita e tre infermieri sono rimasti positivi si è trattato di un focolaio occorre dire che però con l'intervento del dipartimento di protezione diretto dalla dottoressa Rosa D'Albano ha impedito che si propagasse ancora di più qualche ora dopo ha perso la vita Colomba D'Amo 87enne di Sala Consilina andiamo a Nocera in ospedale boom contagia a catena tra degenti e sanitarie allarme in chirurgia all'Umberto I altri casi nell'agro gli amministratori che cosa dicono congelate il pane e restate a casa andiamo nel Cilento il medico segnale in ritardo l'infezione il sindaco lo denuncia è successo a Casalvelino in isolamento intanto un giovane è tornato dalla scuola dei Carabinieri ad Agropoli 16 positivi rimaniamo sul mattino la cronaca minorenne alla guida per amore fermato dopo due tamponamenti il 17enne di Vietri sorpreso in piena notte dai Carabinieri per sfuggire all'alt finisce contro un muro poi si schianta contro un'altra vettura intercettato dai militari perde il controllo della Iaris di proprietà dei familiari volevo vedere la mia fidanzata Napoli nuova stretta sui controlli passeggiate non autorizzate 5 multe domenica delle palme con chiese chiuse centro storico spettrale la salute di tutti noi dipende dal rispetto delle regole queste le parole del sindaco Enzo Napoli di taglio basso pugno duro di torquato mascherine obbligatorie toni durissimi del primo cittadino di Nocera da mercoledì sanzioni a chi non usa protezioni le stiamo distribuendo Lasciamo il mattino spostiamoci su cronache in primo piano l'emergenza economica titolari dei supermercati intanto nell'incertezza quali sono le modalità di pagamento scade domani la presentazione delle domande ma resta ancora da chiarire come e quando riceveranno i soldi anticipati per quanto riguarda i buoni spesa mancano poco più di 24 ore alla scadenza delle domande per il bonus alimentare ad oggi regna l'incertezza totale soprattutto per i gestori dei supermercati che non hanno ancora ben compreso le modalità di pagamento tutto regna nell'incertezza assoluta e molti ancora chiedono di avere informazioni certe prima di scegliere se aderire o meno all'iniziativa lanciata in tutti i comuni di Salerno ma non solo in tutta in tutta Italia grazie al governo che ha stanziato risorse per aiutare le persone maggiormente in difficoltà tra le ipotesi più concrete al momento il pagamento a 90 giorni scelta che metterebbe in crisi soprattutto i discount impossibilitati ad un anticipo di cassa di centinaia e centinaia di euro intanto notizie più o meno certe potrebbero giungere solo domani andiamo avanti sempre su cronache in costiera amalfitana qual è la situazione ci sia chiarezza sulla gestione del turismo post emergenza chiederlo Vittorio Mendozzi albergatore di Vietri sul mare nessuno si preoccupa della fase di organizzazione delle attività produttive che vanno accompagnate in un momento molto delicato un'emergenza dunque che va oltre quella sanitaria per i lavoratori le aziende le imprese i settori pare essere arrivato il momento dei conti che non vedono certamente il segno più sui bilanci tra tutti chi pagherà il prezzo più alto della crisi economica post coronavirus sarà il settore del turismo e i suoi operatori la costiera amalfitana è alle prese con tanti punti interrogativi per la stagione estiva 2020 che pare non essere proprio così scontata vediamo che cosa dice l'albergatore si avvicina la Pasqua che per noi operatori turistici rappresenta da sempre il lancio dell'alta stagione ovvero l'inizio della fase di lavoro più intensa dell'anno questo significa concludere opere di manutenzione selezionare personale per i sei mesi a venire approvvigionamenti organizzare tutti gli eventi programmati oggi il turismo vive una fase di incertezza mai vista la prima nella storia del nostro paese andiamo ad Eboli Rami d'Ulivo davanti alla parrocchia cimiteriale la cerimonia religiosa senza la presenza dei fedeli che ha visto la partecipazione della forania sacerdotale sono stati ricordati tutti i defunti che non hanno potuto godere delle funzioni religiose a causa delle restrizioni di taglio basso donate mille mascherine al comune di Giffoni Sei Casali dalla SD Giffoni Sei Casali e Granamare uniti nella solidarietà spostiamoci a sapri ritardi accertamenti il sindaco scrive alla procura la nota del primo cittadino gentile le comunicazioni circa una positività al virus sono giunte troppo tardi una nota alla procura di Lago Negro perché faccia luce su un presunto ritardo nelle comunicazioni di un caso positivo di coronavirus a Bibbonati e sulla disposizione di quarantena obbligatoria per i familiari dell'uomo un medico in servizio a Salerno Celle di Bulgaria uova di Pasqua per i bimbi con l'indenità del sindaco Gino Marotta Centropagina rapid test immunologici presto anche nel Vallo di Diano arriva dalla BIM lo stock di 15.000 rapid test acquistati per 16 euro Ascea sindacato denuncia dispositivi mancano i dispositivi di protezione al South di taglio basso andiamo a Polla ieri l'omaggio dei vigili del fuoco all'ospedale commozione nel saluto tra gli eroi dalle finestre medici infermieri e pazienti hanno ricambiato con un lungo applauso le sirene dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco del distaccamento di sala con siline accese insieme ai lampeggianti e poi un commovente applauso ieri mattina davanti all'ospedale di Polla si è svolto questa sorta di flash mob sia per ringraziare tutti gli operatori sanitari che per salutare i degenti ricoverati nell'area covid dell'ospedale e termina qui la nostra rassegna stampa vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buona giornata vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio a що vi ringrazio vi ringrazio